buongiorno amici amiche di nova news 24 dopo avervi aggiornato sulla situazione dei sondaggi per il secondo finalista vi leggiamo quello che scrivono sul web chi vincerà il grande fratello gli scommettitori stanno già puntando tutto ma attenzione perché ci sono delle novità nessuna grande sorpresa però sul vincitore assoluto che sempre beatrice luzzi ma attenzione perché beatrice in qualche modo potrebbe ancora essere sorpresa da qualche recupero vediamo un po com'è la situazione intanto nel dubbio potremmo sicuramente dire che lei vincerà il grande fratello ma ci sono anche altri due nomi che spiccano secondo qualcuno che fa sondaggi sul web ovviamente scommette per l'avatiero è al secondo posto anche se ultimamente ha perso un po di consensi dopo la storia con mirko giuseppe garibaldi si trova sul podio al terzo posto intanto proprio dopo la storia di mirko per l'ha perso consensi potrebbe succedere anche a beatrice una cosa simile questo sarebbe il colpo di scena ma per ora beatrice non sbaglia una mossa è sempre la preferita sempre schietta sempre sincera sempre sul pezzo come si suol dire poi c'è simona tagli lei che è entrata al fianco di beatrice sta guadagnando tanti consensi ma attenzione perché nell'ultimo sondaggio che dice chi è il tuo preferito dell'ultima puntata ci sono delle novità ve lo chiariremo nel prossimo articolo intanto se vi è piaciuto questo di articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre sul nova news 24 tu ti 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 Grazie a tutti.